Gli europei under 17 stanno per iniziare, vi sottoponiamo a un quiz di sette domande per scoprire chi di voi due ne sa di più sulla manifestazione che state per affrontare. Per rispondere però dovrete prenotarvi quindi iniziate con una prova pulsante. Bip e tac. Bene, prima domanda. Quali sono le tre nazionali che affronterete nel Gironi? Turchia, Gioca e Spagna. Era facile questa. Seconda domanda. Quando giocherete la prima partita? Bip, 3 maggio. Terza domanda. La fase finale prevede 16 squadre suddivise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Per ogni girone quante squadre si qualificano alla fase successiva? 2. Arrivato prima lui stavolta. 2 e quindi state 2 a 1. Quarta domanda. Stavolta ci spostiamo sulla storia di questa manifestazione e ci sono tre opzioni di risposta. L'Italia ha vinto una edizione degli europei quando erano riservati agli under 16. In quale anno? 1982, 1993 o 2001? 1. No, 2001. Sbagliamo? 1982, 1993 o 2001? 93. Nessuno dei due. Era l'82. Il punteggio rimane di 2 a 1. Quinta domanda. Quale tra questi tre celebri campioni ha vinto il Golden Player degli europei under 17 nella sua carriera? Paul Pogba, Cristiano Ronaldo o Wayne Rooney? TAC, Rooney. 2 a 2 ha vareggiato. È stato Wayne Rooney nel 2002. Siete pari, 2 a 2. Sesta domanda. Ci sono tre opzioni di risposta anche qui. Qual è la nazione campione in carica? Dovete aspettare le risposte. Belgio, Francia o Portogallo? TAC. È arrivato prima il PIP. Francia. No, errore. Portogallo. Punto per Raul, 3 a 2. Settima e ultima domanda, quindi decisiva. Quando si disputerà la finale 2017? Allora... Pulsanti? Si sbagli terza. 21 maggio. 18 maggio. Quasi venerdì 19 maggio. L'augurio è che ovviamente ci possiate arrivare. Bravi tutti e due. Vinceranno però. Sì. Il perdente deve rendere omaggio al vincitore. Abbraccialo. Prima c'è scarpe.